Oh, aiutala, di dove devi mettere i cucchiai? Eh, mani dietro! Vai, 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 metticela qui. Prendi la panna e metti i cucchiai. Vai, aspetta. Prenda la bocca e te la giocca. Vai, apri un po' di più la bocca. Ok, vai. Vai, 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 vai. Non lo devi vedere. Vai, 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 che c'è? Ce l'ha fatta. Tu devi star fermo. Aiutala, di dove? No, 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 poi tocca, devi solo parlare. E tu che vai avanti, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Più poche, Gianluca, più poche.